Allora, esisto, sono presente, sono una persona fisica in carne ed ossa e tuttavia molti mi chiedono di poter parlare con me al telefono e sono costretto a rifiutare l'invito perché siete davvero in tantissimi quindi non chiedetemi l'indirizzo Skype o il numero di telefono perché generalmente non do questa informazione tuttavia sono reperibile ai seguenti indirizzi di posto elettronico francesconano.scuolasuono.it e per partnership, per richieste commerciali, per informazioni sulla pubblicità puoi iscrivermi a info.scuolasuono.it Attenzione però, non posso garantire di riuscire a rispondere personalmente a ogni mail che mi viene spedita siete in tantissimi e perciò alcuni messaggi giocoforza vengono gestiti dal mio servizio cliente per rimanere informato sulle iniziative e sugli eventi promossi da me con Scuolasuono iscriviti alla mia newsletter inserendo qui sotto nel modulo sottostante il tuo nome non serve il cognome e il tuo indirizzo di posta elettronica e riceverai immediatamente delle informazioni da parte mia così in questa maniera sicuramente rimarremo in contatto